Ciao, come va? Spero tutto bene. Questo è il canale di Outdoor, la Corsa è una medicina e io sono Gabriele. In questo canale cerchiamo di parlare di corsa, di allenamento, di sport di resistenza in maniera autentica, senza tante formule commerciali, cercando di raccontare cose utili e anche cose che non senti su altri canali. Oggi ti voglio parlare di infortuni. Il tema degli infortuni purtroppo è un tema molto cercato, molto chiacchierato. In verità è molto facile non avere infortuni se si conoscono quali sono le principali cause che creano infortuni per chi corre. Sia per quanto riguarda la corsa su strada, sia per quanto riguarda la corsa in montagna. Innanzitutto non è vero che l'asfalto è più traumatico, che la strada faccia meglio o che il trail running faccia meglio. A livello di infortuni direi, salvo il discorso della discesa, ma è un discorso molto marginale, non c'è una grande differenza di infortuni tra asfalto e trail running. La differenza la fanno questi tre elementi qua. Quali sono le principali cause di infortuni nella corsa? Il sovrallenamento è la prima causa principale ed è facile individuarla. Il problema è che non vogliamo individuarla perché non vogliamo ammettere che ci stiamo allenando troppo o male. Quindi il sovrallenamento è la principale causa di infortuni nella corsa. C'è questa idea sbagliata di come ci si allena nella corsa ed è importante sapere che anche chi lavora come professionista nella corsa che segue i corridori deve sapere che la maggior parte dei corridori si allena male, si allena troppo. Prima causa di infortuni nella corsa è il sovrallenamento. Seconda causa di infortuni nella corsa è la tecnica di corsa perché una cattiva tecnica di corsa, gioco forza, lungo andare, porta ad infortuni. Soprattutto se associata, come spesso accade, a un sovrallenamento. Quindi sovrallenamento e tecnica di corsa sono le due principali cause di infortuni. La terza causa di infortuni, quindi capite che non è vero che la corsa fa male e che qualcuno non può correre. Basta avere una discreta, una accettabile tecnica di corsa e allenarsi bene e tutti possono correre. Non ci sono persone che non possono correre perché hanno avuto problemi. Quelle sono tutte scuse o diciamo delle formule antiche che certe persone o certe riviste, certi canali, sono cose che si tramandano ma perché non si è mai voluto approfondire. Le principali due cause di infortuni sono sovrallenamento e cattiva tecnica di corsa. E la terza causa di infortuni può essere dovuta a delle asimmetrie nel nostro corpo e quindi è giusto, siccome la corsa è un lavoro simmetrico, è giusto valutare se abbiamo delle asimmetrie, delle carenze, delle rigidità che ci creano asimmetrie o le abbiamo dalla nascita e queste sicuramente a lungo andare possono causare infortuni. però se noi abbiamo sotto controllo l'allenamento, quindi evitiamo il sovrallenamento e abbiamo una buona tecnica di corsa, veramente, raramente ci facciamo male. Ecco perché questi due aspetti sono molto importanti e qualsiasi professionista che abbia a che fare con corridori, sia che sesso una professionista sanitario, sia che sesso un venditore di scarpe, eccetera, eccetera, dovrebbe capire che le principali cause sono il sovrallenamento e la tecnica di corsa e quindi dovrebbe avere delle nozioni di allenamento e di tecnica di corsa. Avere delle nozioni non vuol dire essere degli scienziati di corsa ma sapere almeno i fondamentali. Quindi non sono le scarpe, come spesso si dice, che causano gli infortuni. Non è il nostro DNA, non siamo portati a correre. Se ci facciamo male è perché sbagliamo ad allenarci e abbiamo una cattiva tecnica di corsa. Se hai delle domande o se ti fa piacere commentare con la tua esperienza scrivilo pure e oppure scrivi in privato. Naturalmente qualsiasi commento e qualsiasi opinione è ben accetta.